L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani. L'apprendista lavora ed in cambio, oltre alla retribuzione, ha diritto a ricevere quegli insegnamenti necessari per imparare un mestiere. Quando viene assunto, l'apprendista deve avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni. Analizzando un caso concreto, ovvero quello di un apprendista che viene assunto per acquisire la qualifica di parrucchiere di terzo livello. Il contratto collettivo applicato è quello degli acconciatori. Il primo anno la retribuzione lorda minima è pari a 800 euro, la retribuzione netta 780, il costo aziendale mensile è pari a 850 euro, il costo anno aziendale è pari a 11.500 euro. La contrattazione collettiva prevede che la retribuzione e di conseguenza il costo aziendale aumentino progressivamente. Da un punto di vista economico per il datore di lavoro, nonostante ciò, il contratto rimane quello più conveniente. L'apprendistato ha una durata di tre anni che diventano cinque qualora l'azienda sia iscritta all'albo artigiani. Al termine di questo periodo il datore di lavoro deve valutare se l'apprendista ha acquisito le competenze proprie del parrucchiere. In caso affermativo il suo contratto viene trasformato a tempo indeterminato. In caso negativo il datore di lavoro può liberamente interrompere il rapporto di lavoro. Tre consigli. Prima di assumere un apprendista verificate la sua scheda anagrafica, ossia quel documento rilasciato dal centro per l'impiego che attesta il suo percorso professionale. Se ha già lavorato come parrucchiere le possibilità di assumerlo come apprendista diminuiscono sensibilmente. Secondo, conservate sempre la documentazione che conferma che avete erogato la formazione. Se manca le sanzioni sono molto pesanti. Terzo, lavorare con i giovani è una sfida soprattutto se debbono imparare. Vincerla consente alle vostre organizzazioni di essere realmente competitive.